L'incidente si è verificato tra la galleria Collacchio e il viadotto Ripa sulla Esernia Castel di Sangro nel territorio di Forli del Sannio. Ha perso la vita Eugenio Trione, 52 anni, residente a Rio Nero Sannitico, ma originario del Venafrano, viveva per motivi di lavoro a Castel di Sangro. Gravemente ferito il figlio di 8 anni, in viaggio con lui sulla Lancia Ypsilon, ha riportato lesioni alla milza e fratture agli arti. Gravissime anche le condizioni di una donna di 29 anni, originaria di Acquaviva di Sernia, alla guida di una Peugeot 306. Ricoverata all'ospedale veneziale, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre un'emorragia all'addome. La prognosi è riservata. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri della stazione di Forli e del nucleo radiomobile della Compagnia di Sernia, sul posto insieme ai vigili del fuoco, al 118 e al personale dell'ANAS. La dinamica è complessa, ancora tutta da chiarire. Stando ai primi rilievi effettuati dai militari dell'arma, si presume che una delle due utilitarie coinvolte nell'incidente sia sbandata in galleria, finendo prima contro il muro e la barriera, poi sulla corsia opposta insieme all'altra auto. L'impatto è stato violentissimo. La Ypsilon e la 306 si sono letteralmente accartocciate. Per Trione, purtroppo, non c'è stata via di scampo. Da quanto si è appreso, la donna stava scendendo a Esernia per andare a lavorare all'esattoria, mentre non si è ancora capito se il 52enne fosse diretto a Castel di Sangro oppure verso Esernia. L'uomo, già anestesista dell'ospedale abruzzese, in seguito a un altro incidente in cui rimase gravemente ferito alcuni anni fa, era stato trasferito al distretto sanitario del centro sangrino, dove coordinava un settore amministrativo. Lavorava anche in due studi di oculistica a Venafro e Castel di Sangro. Intanto, sulle condizioni del bambino, il primario del pronto soccorso di Esernia, Lucio Pastore, denuncia la situazione paradossale causata dai tagli alla sanità. Per il bimbo, ha detto, dovevano intervenire contemporaneamente reparti di chirurgia e ortopedia. Invece si è stati costretti a operare in due fasi, in due ospedali diversi, a discapito del paziente.